Buongiorno a tutti, allora, 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 vi ho fatto le schedine del gigione naturalmente per quanto riguarda Europa League e Conference, adesso facciamo le bollettine o bollette che dir si voglia. Allora ho scelto quattro partite per quanto riguarda l'Europa League e quattro partite per quanto riguarda la Conference League, perché avevo provato a vedere di riuscire a diversificarvi la questione e farle anche alla sera, ma purtroppo le gare non mi davano grosse chance, ecco, per intenderci. Avevo provato, adesso non ricordo se la Conference o l'altra, o l'Europa League e mi venivano fuori delle cifre troppo basse, ecco, per intenderci, quindi ho lasciato perdere, ho fatto come l'altra volta. Allora ho scelto quattro partite dell'Europa League delle 21 e quattro partite della Conference League delle 18 e 45, quindi partiamo con le partite delle 21 dell'Europa League, tanto questo video per le 7 del mattino sia questo che l'altro sarà sicuramente online, quindi siamo tranquilli che avete tutta la giornata per farvi le vostre bollette. Allora, partiamo subito con la scelta delle quattro partite di Europa League. Ho scelto Olimpiaco-Squara-Bag, Ren-Dinamo-Kiev, Roma-Betis e Sporting-Braga-Braga-San-Giluas. Partiamo con la schedina, anzi la bolletta, delle fisse. Olimpiaco-Squara-Bag 1, Ren-Dinamo-Kiev 1, Roma-Betis 1, Sporting-Braga-San-Giluas 1. Con 5 euro se ne vincono 41,89. Bollettina numero 2. Olimpiaco-Squara-Bag, Multigol-Kasa 1,3. Ren-Dinamo-Kiev, Multigol-Kasa 2,4. Roma-Betis, Multigol-Kasa 2,4. Sporting-Braga-San-Giluas, Multigol-Kasa 1,3. Con 5 euro se ne vincono 22,24. Bollettina number 3. Eccola qua. Adesso la mettiamo sotto. Con due opzioni. Opzioni base più altri due. Partiamo con Olimpiaco-Squara-Bag 1,5. Ren-Dinamo-Kiev 1,5. Roma-Betis 1,5. Sporting-Braga-San-Giluas 1,5. Piove. Con 5 euro se ne vincono 22,90. So già che mi dite. Quattro volte e mezzo all'apposto è un po' pochino. E allora opzione number 1. Olimpiaco-Squara-Bag 1,5. Piove. Ren-Dinamo-Kiev 1,5. Roma-Betis 1,5. Piove. Sporting-Braga-San-Giluas 1,5. Piove. Con 5 euro se ne vincono 29,52. Mi dite ma Gigi non è neanche sei volte l'apposta. E allora opzione numero 2. Olimpiaco-Squara-Bag 1,5. Ren-Dinamo-Kiev 1,5. Roma-Betis 1,5. Sporting-Braga-San-Giluas 1,5. Piove. Con 5 euro se ne vincono 42,88. Spero che 8 volte e mezzo all'apposta vi possano bastare. Sì, 8 volte e mezzo. 5 per 8, 40. 0,5 per 5, 2,5. 42,50. 42,88. Anche più di 8 volte e mezzo all'apposta. Avete l'opzione base 4 volte e mezza. L'altra opzione quasi 6 volte. L'altra opzione 8 volte e mezza. Scegliete voi. Poi potete anche mischiarla. Andiamo alla bollettina numero 4 che a me fa sempre libidine. Olimpiaco-Squara-Bag gol ospite. Ren-Dinamo-Kiev gol ospite. Roma-Betis gol ospite. Sporting-Braga-San-Giluas gol ospite. Con 5 euro se ne vincono 26,54. Se però vi fidate del consiglio che mi ha dato il mio collega, ma non ve lo dico, dovete andarvi a vedere l'altro video che riguarda le schedine per Roma-Betis che mi ha dato un risultato esatto. Se vi fidate di lui, Roma-Betis gol ospite. anziché mettete eh, mettete eh, perché lui mi ha dato un determinato risultato, ma l'ho detto nel video precedente, quindi ve l'ho andata a vedere, perché sennò è inutile che li faccio io i video. Faccio perché mi fa piacere, però se li guardate mi fa ancora più piacere. Veniamo alla bollettina number five e mi tocca, non mi toccano le imitazioni per poco, per poco, per un'antichia, ma meno male, non devo farvi le imitazioni per vostra fortuna. Olimpia-Cosquara-Vag gol piuver. Ren-Dinamo-Kiev gol piuver. Roma-Betis gol piuver. Sporting-Braga-San-Giluas gol piuver. Con 5 euro se ne vincono 116,64. Naturalmente, se volete ascoltare, Roma-Betis finisce con quel risultato lì. E allora andate, ma non mettete. Non dico altro, dovete vedere il video. Però vi informo che l'unica partita in cui il gol piuver non è favorito, ma c'è una differenza veramente ridicola, di 0,15 a favore del no-goal. E Sporting-Braga-San-Giluas no-goal piu' under. Quindi, vedete voi, come vi dico sempre, scegliete o vi giocate le tre partite che sono favorite per i fatti loro, o prendete le tre partite che sono favorite e le mettete in tre diverse bollette insieme ad altre due partite, massimo tre, più scontate, magari con la doppia chance, che così siete più tranquilli. O se no mi dite, Gigi, guarda, siccome l'ultima non è favorita, giocarne solo tre non ci piace perché poi dopo non paga quanto vorremmo, eccetera, soprassediamo. È a vostra discrezione. Andiamo alla bollettina number six e qui le cose cambiano completamente. Olimpia-Cosquara-Bag, uno più gol. Ren-Dinamo-Chiev, uno più gol. Roma-Betis, uno più gol. Sporting-Braga-San-Giluas, uno più gol. Con due euro se ne vincontra e centocinque virgola sessantuno. Con cinque euro, settecentosessantaquattro virgola dodici. Però tutti i gol non sono favoriti, quindi bolletta alternativa. Sì, non è che c'è anche una buona differenza, non è che sia piccola la differenza. Diciamo che se da una parte il gol più over è abbastanza favorito, ma non troppo, come gli metto la fissa più gol, la quota si alza per quella lì e si abbassa per il no gol. Quindi, bolletta alternativa, secondo i bookmaker più probabile. Olimpia-Cosquara-Bago, uno più no gol. Ren-Dinamo-Chiev, uno più no gol. Roma-Betis, uno più no gol. Sporting-Braga-Giluas, uno più no gol. Andiamo a vedere cosa pagherebbe. Con due euro se ne vincerebbero 128,66. Con cinque euro, 321,66. Come vedete, addirittura con cinque euro se ne andrebbero a vincere quasi quanto con due euro un'altra bolletta. Allora, quando ci sono queste situazioni un po' borderline, come si suol dire, è difficile che esca tutto no gol o tutto gol. Quindi è probabile che magari due partite escono col gol, due col no gol, tre partite col no gol, una col gol, o viceversa. Quindi, o andate d'intuito. Dite, questa partita qua per me esce il gol, questa non esce, quella lì ascoltiamo, facciamo così. E l'altra magari esce il gol. E quindi magari fate due col gol, due col no gol. O se no, sopra sedete e dite, no, Gigi, guarda, a noi ci piace vincere facile, preferiamo le tue prime quattro bollette che sono più probabili, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno deve ragionare con la propria cavesa, tenere conto che io ho la pelata, ma non ho la sfera magica, quindi a volte c'è azzecco, a volte no. Devo dire che la Champions non è andata malaccio, le schedine sono andate anche piuttosto bene. Me l'ha anche segnalato, ma non ho voluto. Sapete che non sto più a fare il resoconto di come sono andate, eccetera. Se qualcuno mi scrive sotto, Gigi, mi hai fatto sbagliare, eccetera, chiedo Venia, come sempre. Se qualcuno mi dice, Gigi, grazie, mi hai fatto vincere, sono solo contento per lui. E spero sempre che magari qualcuno, grazie alle mie dritte e magari a dei piccoli accorgimenti che aggiunge lui per migliorare il mio pronostico, porti a casa tanti bei soldini. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, vado a fare anche l'altro video. Ciao!